Ciao gente! Benvenuti! L'audio troppo alto? Forse sì! Abbiamo un po' di cose di cui parlare perché insomma sono successe tante cose questa settimana Fulcro della serata, le bustine Pokémon sono aumentate da 4,90 a 6 euro Andiamo a leggere il contenuto Gentile cliente, ti informiamo che dopo 18 anni di prezzi stabili Ci troviamo costretti a modificare il prezzo delle bustine Oddio, prezzi stabili! Sì, dai! Più o meno Pertanto, a partire dal 18 giugno, con l'uscita della nuova espansione Pokémon Regno Glaciale Il nuovo prezzo di listino delle bustine sarà di 6 euro cada una Diciamo che nell'era di nero e bianco costavano 3,90 se non sbaglio Poi li hanno un po' aumentati ma vabbè La stessa variazione di prezzo verrà applicata da Jedis alle buste Pokémon da loro distribuite nelle edicole Perché ricordo che Jedis è il distributore di bustine Pokémon per quanto riguarda le edicole Mentre GameVision, GameTrade e tantissimi altri come Daltenda sono i distributori per l'online Quindi Jedis è una cosa, gli altri sono un'altra cosa Cogliamo l'occasione per ringraziarvi nel continuo supporto Diciamo ragazzi che ovviamente da distributori di bustine alle edicole Anche Jedis appunto applicherà questo cambio Diciamo che già un anno e mezzo fa si vociferava che praticamente le bustine Pokémon sarebbero aumentate Sarebbero passate dai classici 4,90 ai 6 ma questo già tempo fa Se vi ricordate era uscita una comunicazione da parte di The Pokémon Company Tuttavia questa modifica di prezzo non è stata apportata Perché è scoppiato il Covid e giustamente i fornitori hanno detto Ma perché aumentare il prezzo delle bustine ora con il Covid Che purtroppo le famiglie non ce la fanno a comprare le bustine Perché appunto non lavorano, non fanno tante belle cose Però a questo punto, passato più di un anno I fornitori si sono dovuti adeguare a questo cambiamento Perché l'importazione dall'America ha un costo Ha un costo che probabilmente è maggiorato nel tempo Voi vi basti pensare no? Che la distribuzione qua in Europa non esiste Cioè non esiste una fabbrica dei Pokémon qui in Europa Perché se esistesse qua in Europa una fabbrica che stampa le carte Pokémon Ovviamente ai distributori costerebbe meno E a noi fornitori, che poi diamo il prodotto a voi Ancora meno, capito? Avete capito un po' come funziona? Con l'importazione dall'America all'Europa, dall'Europa all'Italia C'è un passaggio ragazzi infinito E tutti questi costi di importazione pesano sul prodotto E di conseguenza i fornitori probabilmente non potevano più sostenere questi costi Che con le nuove leggi sono aumentati Si vocifra che una fabbrica in Europa dei Pokémon Dovrebbe arrivare tra il 2025 e il 2026 Ora ragazzi la sparo qui Ma non ricordo esattamente, ok? Nel momento in cui la fabbrica arriva qui E stampano le carte in Europa È tutto più facile, ok? C'è un'importazione diversa Allora per noi commerce non cambia tanto Perché tanto tra un codice sconto e l'altro ne veniamo fuori Ma immaginate un papà Ecco io sono un papà, no? Che va in edicola con il figlio C'ha 5 euro E deve comprare la bustina Se appunto la bustina costa 6 E non ha l'euro in tasca Il bambino non riceve la bustina Deve tirare fuori 10 euro E già al papà insomma non è che è tanto felice di tirare fuori 5 euro Figuratevi 10 euro e ricevere gli spicci Ok? Stessa cosa se ne acquista 2 Se ne acquista 3 Se ne acquista 4 È sempre la stessa storia Quindi forse gli unici che ne risentiranno di più Sono proprio le edicole Ma ripeto Sono convinto che il fan Pokémon Rimarrà sempre e comunque Anche a collezionare le carte Con un euro in più Ragazzi Le bustine aumenteranno Sì Sì aumenteranno di un euro Ma Le collezioni Gli elite Le pin Le tin Non aumenteranno Non aumenteranno di prezzo Non aumenteranno di prezzo Nelle collezioni Nelle tin E nelle pin Niente di niente ragazzi Per il momento Oh ragazzi Per il momento Non lo so Non lo so Se per il momento no Tenete conto che questa cosa Darà molto fastidio Ai collezionisti Che cercheranno Di completare Ovviamente i set Per tutti i casual Cioè tutte quelle persone Che comprano una bustina Ogni tanto Due o dieci bustine Non cambierà tanto Non cambierà molto Perché alla fine ragazzi Sono pochi euro in più Ma per una persona Che deve comprare Uno Due Tre Quattro Cinque display Per completare un box Là iniziano ad essere soldi Là iniziano veramente A essere tanti 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 soldi E poi ovviamente Parleremo anche tra poco Della qualità delle carte Che vi dico già da adesso Che tanto Non aumenterà Non aumenterà Ragazzi Non aumenterà Sarà sempre la stessa qualità E lo dico Non aumenterà Non aumenterà